6 del mattino a quota 2760 all'altezza del passo Stelvio c'erano 12 gradi, cosa che per questo periodo è quasi eccessiva. Ormai è da tre anni che abbiamo poche precipitazioni sulle Alpi e con le ultime due settimane di forte caldo abbiamo un po' di difficoltà nella parte alta del ghiacciaio dove pratichiamo lo sci estivo e in questo momento da oggi per noi verrà sospesa l'attività di sci estivo fino a data di destinarsi. Grazie. 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 Grazie.